Buonasera a tutti, grazie a tutti voi che avete seguito questo interessante approfondimento, grazie agli autorevoli ospiti, grazie al nostro Dipartimento Esteri di Fratelli d'Italia, capitanato dal collega Carlo Fidanza che ha voluto organizzare questo appuntamento. Le polemiche sono scaturite in seguito all'incontro ad Ankara tra i vertici dell'Unione Europea e il presidente turco e poi le parole di Mario Draghi molto dure nei confronti di Erdogan hanno avuto il merito di riaccendere i riflettori sul tema delle relazioni tra l'Unione Europea e la Turchia. Ora io non voglio soffermarmi sulle questioni di protocollo, se fosse opportuno o meno prevedere una poltrona in più, se quello di Erdogan sia stato uno sgarbo istituzionale o piuttosto un affronto sessista. Ho letto molte opinioni al riguardo e probabilmente tutte queste letture hanno un fondo di verità. Però credo che a monte ci sia che due messaggi restano in tutta la loro forza comunicativa e purtroppo sono entrambi dei messaggi negativi. Il primo è che quella immagine di una donna ai margini del presidente Michel Impacciato ha una potenza evocativa fortissima in Turchia e in tutto il mondo islamico. Michel Elbeck in un fortunato libro di qualche anno fa l'avrebbe definita sottomissione ed è proprio la sensazione che io e credo tanti altri abbiamo provato di fronte a quelle immagini. Il secondo, strettamente collegato al primo, è che questa missione doveva essere il momento in cui l'Europa, compattamente, diceva basta alle provocazioni di Erdogan e invece ne è uscita l'immagine di un'Europa divisa e balbettante di fronte ad un interlocutore forte e risoluto. La verità è che l'Unione Europea nei rapporti con la Turchia di Erdogan deve svegliarsi. Negli ultimi anni Erdogan ha intensificato l'involuzione della Turchia in chiave islamista riducendo gli spazi di libertà, procedendo a riconversione di luoghi cari alla cristianità come Santa Sofia, ha messo l'Europa sotto ricatto migratorio ottenendo dall'Unione Europea miliardi di euro per bloccare i flussi di profughi che arrivavano dalla Siria e di migranti economici che arrivavano dal resto dell'Asia, ha avviato una politica espansionistica nel Medio Oriente e nel Mediterraneo, dalla stessa Siria al Nagorno-Karabakh, dalle acque antistanti la Grecia e Cipro fino ad arrivare alla Libia, ha perseguito un'agenda politica estera aggressiva e di fatto ispirata a una visione neo-ottomana e la sua influenza preoccupante si sta esercitando non soltanto fuori dai nostri confini ma anche dentro l'Europa dove Erdogan si è fatto portatore dell'islam politico legato alla fratellanza musulmana incitando i turchi e i musulmani residenti nel vecchio continente a colonizzarci facendo figli e finanziando la costruzione di centri culturali e moschee. E' eclatante l'ultima vicenda della più grande moschea di Francia e forse d'Europa che verrà costruita proprio a Strasburgo, città considerata da sempre il cuore dell'Europa. Quando qualcuno in Europa ha osato criticare queste scelte Erdogan ha sempre denunciato una presunta propaganda anti-islamica. Ora io lo voglio dire chiaramente a scanso di equivoci il problema non è l'islam in sé ma l'utilizzo politico dell'islam e il sostegno indiretto ai gruppi jihadisti. Il problema non sono i cittadini turchi ma una politica di potenza del governo turco che è largamente incompatibile con i valori e gli interessi europei. E' di questo che l'Europa deve prendere consapevolezza. I rapporti tra Unione Europea e Turchia vanno rivisti necessariamente e rapidamente e vanno rivisti alla luce degli eventi degli ultimi mesi. Non possiamo più accettare il ricatto migratorio contro uno Stato membro come la Grecia e contro l'Unione Europea. L'Unione Europea deve agire per il ritorno in patria dei profughi istriani e siriani e deve difendere i propri confini esterni dall'immigrazione irregolare. Noi non possiamo più accettare le provocazioni nel Mediterraneo orientale ai danni di Ciprio, l'invio di mercenari jihadisti in Arztac, la politica espansionistica in Libia. Non possiamo più accettare tutto questo. E non possiamo accettare che la Turchia finanzi l'islam politico in Europa che alimenta quella separazione culturale denunciata per una volta correttamente anche da Emmanuel Macron. Con una Turchia che ritorni in questo alveo si potranno magari anche fare accordi doganali e commerciali come si fanno del resto con Mezzomondo. Difendere la presenza e gli accordi strategici che tante aziende italiane hanno sottoscritto in questi anni. Ma questo non vuol dire che la Turchia sia parte dell'Europa. E non è un caso che da sempre Fratelli d'Italia ritenga che la Turchia per storia, geografia e cultura non faccia parte dell'Europa così come noi la intendiamo. E questi atteggiamenti l'hanno ulteriormente allontanata dall'Europa. Ai nostri occhi e non solo. E allora è arrivato il momento di revocare definitivamente alla Turchia lo status di paese candidato all'adesione all'Unione Europea e dire no una volta per tutte all'ingresso della Turchia in Europa. E se Mario Draghi vuole essere davvero credibile, anziché dare del dittatore a un primo ministro comunque eletto dai cittadini, ci aspettiamo che ponga urgentemente questa questione sul tavolo del Consiglio Europeo. E se lo farà, noi saremo al suo fianco e certamente l'Italia farà un servizio all'Europa che potrà finalmente riscoprire il senso del proprio stare insieme, della propria identità e dei propri interessi geostrategici.